A Palermo, in piazza Ignazio Florio. Da oltre 10 anni, opera la Settere Immobiliare. Azienda leader nel settore immobiliare. Professionalità, preparazione e cortesia. Ci contraddistinguono da anni. Per vendere o affittare il tuo immobile, scegli Settere Immobiliare. Per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni, chiamalo 091 79 10 143.